VemLive 2022 è in corso, l'attesa nuova edizione di questo evento straordinario, un evento storico per il mercato AST. Siamo con Vincenzo Spagnoletti di Schneider Electric. Ciao Vincenzo, benvenuto. Ciao Marco, grazie. Allora Vincenzo, una domanda mica banale per te, se no sarebbe troppo facile. Una domanda centrale di cui tra l'altro si sta, un tema di cui si sta parlando anche in questo momento nella sala plenaria, siamo in un momento in cui, l'abbiamo detto anche con gli altri intervistati, tutti aziende di ogni forma e dimensione stiamo correndo verso il digitale, verso il cloud. La pandemia, tutto quello che è capitato di negativo, ha avuto dei pochi riflessi positivi e tra i pochissimi riflessi positivi è quello di averci fatto capire, toccare con mano la potenza del digitale, le capacità che aveva, che forse superavano e superano quello che potevamo pensare prima. Ecco, però mentre corriamo siamo anche allo stesso tempo in una fase in cui dobbiamo stare grandemente attenti al consumo di energia che serve per alimentare questa corsa, no? E quindi anche qui non è una contraddizione, cioè come si fa a rendere sostenibile questa corsa inevitabile e che non è possibile evitare verso la trasformazione digitale? Sì, la buona notizia è che possiamo fare veramente molto tutti quanti insieme, noi fornitori di tecnologia, di innovazione, i nostri clienti e l'expertise dei nostri partner, quali sistemi. Nel nostro DNA come Schneider Electric da sempre aiutiamo le imprese insieme ai nostri partner nel traguardare obiettivi di sostenibilità e di alta resilienza per garantire ovviamente la vita delle infrastrutture fisiche più critiche e ovviamente per abilitarle verso una trasformazione digitale sempre più crescente da un lato e dall'altro lato, come anticipato, ovviamente una richiesta di energia a supporto della trasformazione stessa delle imprese. E in che modo li possiamo aiutare? Da un lato sviluppando sempre di più dei prodotti di infrastruttura fisica che abbiano alti rendimenti, lavorare sempre di più con delle impronte, dei footprint sempre più compatti, accompagnare i nostri prodotti con dei passaporti digitali dove all'interno vengono elencate tutte le materie prime che costruisco, che servono alla realizzazione del prodotto stesso. Dall'altro lato un ragionamento ovviamente che ci accompagna da sempre da un punto di vista di architettura olistico e attraverso le piattaforme digitali vengono traguardati obiettivi di efficientamento energetico e di sostenibilità ogni giorno, ogni mese, ogni anno durante il ciclo di vita di un'infrastruttura fisica che va dagli 8 ai 10 anni. E ovviamente poi l'expertise dei nostri partner, che ovviamente sviluppa e progetta infrastrutture IT, quindi scegliendo i service, gli storage, le applicazioni sempre più sostenibili ed efficienti, dove ovviamente l'efficienza del corretto dimensionamento dell'infrastruttura IT diventa un valore enorme per i nostri clienti. Perfetto, grazie, grazie mille. Vicenzo è soprattutto interessante, io l'avevo detto insomma, che raccontavamo la storia di un ecosistema, tu hai parlato e chiuso la tua risposta proprio enfatizzando il valore della collaborazione con realtà, Sistemi Integration, come WEM Sistemi, che vi aiutano a portare il corretto dimensionamento del digitale sul territorio. Senti, un po' l'hai anticipato, lo dicono anche gli esperti, in tutta questa capacità di orchestrare, di mixare questi due opposti, la corsa verso il digitale e la sostenibilità, proprio l'internet delle cose sembra avere un ruolo fondamentale. Ci spieghi in che modo l'IoT può rendere vero possibile il sogno dell'industria 4.0, della fabbrica 4.0? Sì, lo vediamo ormai anche qui da diversi anni che l'IoT e la digital transformation è diventata pervasiva in tanti settori, riveste un settore primario per l'importanza ovviamente del tessuto industriale italiano, ovviamente le imprese e le industrie 4.0 in Italia. dove ovviamente sempre di più applicazioni di data analytics, digital twin, machine to machine, machine learning, danno questa spinta importantissima di innovazione al nostro tessuto industriale e ovviamente generano una quantità di dati locale, magari con le stesse best practice dei grandi datacenter del cloud, ma in piccolo, ma altamente robusti, altamente resilienti ed efficienti, dove ovviamente le imprese possono godere, fortunatamente confermate anche nel nuovo PNNR, degli sgravi fiscali dell'impresa 4.0. Questo è molto importante fare sempre in modo che i nostri IT manager, data center manager, infrastructure manager, dialogano con il plant manager e il CFO per fare in modo di far presente le necessità della digital transformation e di come accompagnare, ovviamente attraverso i piccoli data center, l'evoluzione della fabbrica 4.0. Grazie Vincenzo, grazie mille. E allora, un digitale che vive insomma una fase veramente di grandissima importanza, data center sempre più strutturati, articolati, sempre più importanti, ma allo stesso tempo sempre più sostenibili. Vincenzo Spagnoletti ci ha spiegato come si fa insieme a Schneider Electric. Siamo qui live al VEM Live 2022.